Salve fanciulli e fanciulle, beh quest'oggi mi verrebbe da dirvi buongiorno ma sto registrando di sera e infatti c'è la luce e l'ombra sul tavolo. Allora cosa andiamo a chiedere alle nostre carte? Storia d'amore, con lui, con lei, ex compagno di scuola, collega di lavoro, amico di infanzia, comunque una persona che è già stata presente nel vostro passato, con la quale non è successo nulla, forse è iniziato qualcosa, forse è finito, fatto sta che adesso siete da molti mesi in fase di no contact. Per alcuni il no contact è semplicemente il fatto che non ci stiamo sentendo, io non scrivo, lui non scrive e siamo in no contact. Per altri invece il no contact o per altri è voluto, quindi è la strategia, anche se poi il no contact dovrebbe portare a dimenticare, purificare la mente, lo spirito, il corpo, tutto, no? Per disintossicarsi da una situazione tossica o di dipendenza e quindi tendenzialmente non dovrebbe farvi focalizzare sulla questione ma mi chiama? Sono bastati questi mesi? Perché non è proprio questo lo scopo del no contact. Però vabbè, ovviamente il punto di partenza sarà diverso per ciascuno di voi, quindi la stesura collettiva darà dei risultati differenti, io lo dico sempre, è un percorso da luoghi interiori diversi che alla fine darà un chilometraggio diverso. Ecco perché potete ascoltare tranquillamente una stesura collettiva che vi può portare le risposte che aspettate. Ovviamente è generale, quindi generico e non è un consulto personale, però comunque quando qualcosa vuole raggiungervi, modo e maniera lo trova, trova la strada. Se vi fa piacere lasciatemi dei commenti così mi potete aiutare a capire anche se è il momento di intrattenimento ludico, di chiacchiera tra noi, anche se indifferita, vi ha comunque rallegrato la giornata. Se vi va di aiutarmi a far crescere il canale e non lo avete ancora fatto, iscrivetevi pure, è gratuito e qui in alto trovate il tasto per iscriversi. E per i più coraggiosi, lo dico sempre, le più coraggiose sempre da queste parti c'è la campanellina per le notifiche. Invece qui, nell'info box, trovate l'indirizzo al quale contattarmi per i consulti personali e le informazioni varie. Tarocchi viaggia al chemico, chiaccia la gmail.com Attenzione a chi si spaccia per il canale e vi contatta in prima persona non sono io. Anche se vi contattano da pagine dove i contenuti sono i miei, non li ho dati, non li ho regalati, li hanno scaricati e ricaricati, quindi è frode. Detto questo, carte posizionate al dritto, parlo come fosse un uomo verso una donna per convenzione, lo ripeto per i nuovi arrivati, chi ha prodato per la prima volta in questo spazio virtuale. Direi che possiamo iniziare, vediamo i sentimenti, se sente la mancanza, cosa rappresenti nell'oggi tu nella sua vita, se ti chiamerà per chiarire, se riuscirete ad avere una storia, ricostruire il rapporto, un po' cosa siete per l'appunto destinati. Ma partiamo! Ritengo però utile, innanzitutto, voltare tre carte di Osho per cercare di comprendere la dinamica karmica. Non può essere un caso, se ti trovi a pensare a questa persona, e non può essere un caso soprattutto dopo mesi di no contact. Quindi, in realtà, quale dinamica karmica, e se non dovessero bastare aggiungiamo carte, c'è su stiste tra di voi in questa specifica incarnazione. Qualcosa di represso. La carta della repressione, quando non è una repressione esercitata sull'altro, e quindi un abuso e una violenza, e in questo caso non è sull'altro, è su se stessi, è un trattenere. Io devo reprimere qualcosa che c'è, se non ci fosse, non dovrei fare lo sforzo di reprimere. Inoltre, essendo una carta palesemente di sforzo, vuol dire che sto reprimendo qualcosa che ha un'intensità notevole. Ora, il blocco, quello fondamentale, quello più evidente, è quello nei pensieri. Quindi, incertezze, paure, angosce. Capochino, una sorta di rassegnazione. Ed è un dolore. Mano a tenere la testa. Come a compatirsi. Impossibilità di fare grandi movimenti, nonostante si percepisca un legame fortissimo e stringente. Quasi una condanna. Tutte queste corde. E sembra proprio una condanna. Questa persona ha lo spazio vitale per stare in piedi, neanche muoversi. Intorno sembrano dei capillari, qualcosa che mi sottrae energia. Quindi uno sforzo che mi fiacca. Oppure potremmo leggere l'immagine come un punto dolente di fragilità interiore. È lui che cerca di opporsi. Perché se non è il tuo stato d'animo, immagino di no, è lo stato d'animo di questa persona. Come un pulcino nell'uovo che deve trovare il coraggio di guadagnarsi il proprio spazio pretendendolo. Aprendo il guscio, compiendo quel salto nel vuoto che è la nascita. So cosa lascio, ma prima di nascere io non lo so se dall'altra parte c'è qualcosa. La nascita e morte sono molto simili al passaggio da una condizione ad un'altra. E il parto, la partenza, una piccola morte in fondo, la condizione iniziale cambia tutto. Lì avevamo il cordone umbilicale, qualcuno che respirava per noi. Però ci limitava e non abbiamo avuto la libertà di movimento all'epoca. Eravamo un corpo in un corpo. Quindi in questo caso è come se lui temesse in questa situazione il lasciarsi andare. Nell'amore in generale e nello specifico il lasciarsi andare con te. Perché però cerchiamo di capire meglio che cos'è che realmente questo uomo teme. Che cosa teme questo uomo e la dinamica karmica che c'è tra voi? L'abbiamo detto un attimo fa. La parola usata è intensità. Quello che reprimo, se va represso con tale sforzo, deve avere una grande, notevole intensità. Che riporta al passato una situazione in sospeso a livello karmico che evidentemente ancora vi lega come dinamica quasi da bruciare. Cioè prima di essere liberi, essendo imprigionati, e se c'è una dinamica di coppia e la libertà della coppia dipende dalla libertà delle parti della coppia, lui ancora non ha guadagnato e ottenuto per se stesso la propria libertà interiore. Non sentendosi libero si giudica, giudica se, giudica all'esterno, non si lascia andare, non si concede quest'amore. Quindi tu senti il legame che è vero, non stai sognando nulla, lo sente anche lui ma non lo vive, lo subisce. Ed eccotelo, combattuto, dove la schizofrenia non è un fattore psicologico in questo caso, ma è nubi sopra, sopra, vabbè, e nubi sotto. Il blocco è lui che si blocca per paura di lasciarsi andare, aspetti contraddittori che in realtà sono complementari. Lui che torna indietro pensando di evitare la fatica, lo sforzo e la prova, e il dietro è come il davanti, sempre una sedita c'è. Lo sforzo di sollevarsi, risollevare la testa, risollevare se stessi. Allora la domanda è un'altra. Poniamo il caso che questa dinamica karmica che vi lega è comunque un qualcosa che lui non riesce ancora ad affrontare e sciogliere perché non affronta una sua personale dinamica karmica. Che cos'è che ha causato nella sua esistenza questo blocco? Il suo autocontrollo. Cioè, non c'è un blocco oggettivo esterno. Non c'è più qualcosa da bruciare. Ecco, poniamo così la questione. Il karma è come una condanna al carcere. Se hai ancora degli anni da scontare, tu devi stare in quel carcere. Prima o poi apriranno la porta e ti lasceranno libero. In questo caso lui ha già scontato tutto. Ma è come se non osasse uscire da una prigione la cui porta è aperta. E quindi tiene, trattiene e reprime la libertà. Che è innanzitutto lo stato di consapevolezza e di coscienza. Lì dove qui sta spalancandosi il terzo occhio, la visione profonda ed interiore. Quando si spalancherà con questa energia, rischiarerà tutto. Queste nubi spariranno. Sparirà l'alibi che lui usa per trattenersi nei tuoi confronti. E l'alibi, eccola qua. Dinamica karmica, arcano diavolo, no? Le zampette legate. Cioè, se lui ruggisse, i problemi sparirebbero. Se tirasse fuori il potere e la potenza che è in sé, tutto si risolverebbe. Secondo te le pecorelle avrebbero paura? Io direi di sì. Invece lui si mette i problemi sulle spalle. Perché? Ecco la giustificazione a non agire. È interessante come cosa. Perché poi il vello delle pecore richiama la nube. Cioè, a stringere qualcosa. Che posso esercitare in virtù del fatto che un minimo di libero arbitrio lo abbiamo. E non è cambiare il futuro, ma procrastinarlo. Le cose andranno per come devono andare. Se è destino che vi riunirete, accadrà. Se non in questa incarnazione, poiché non è l'ultima, nella prossima incarnazione. Fatto sta che lui può dire. Io adesso non voglio. C'è una motivazione oggettiva? No, è proprio una volontà. Non voglio. Non voglio lasciarmi andare. Non voglio mettermi in gioco. Non voglio fare lo sforzo. No, no. Guarda, io ho mille giustificazioni. Per me sono la realtà oggettiva. Che vuoi? Mi vuoi costringere? E questo è tutto un discorso interiore. A livello carmico, per le carte, voi siete comunque destinati, a prescindere da quale sarà l'incarnazione che vedrà questo esito, a riunirvi, a stare assieme. Allora, la mente, momento per momento, quindi andare in equilibrio verso una situazione stabile, nel sentimento, è solida, ma bisogna superare proprio quelle paranoie e quei fumi tossici lasciandoli fuori uscire, non ingannandosi, rallentando, guardando al passato e seguendo il flusso degli eventi. Cioè, la vita vi porterà per naturale evoluzione e suo scorrere, certo, non solo verso la rionificazione, oggi ingarbuglio le parole, ma completamento, l'integrazione degli opposti che sono complementari. Ed ecco il tutto, le due parti che costituiscono il tutto. Però come? Eh, lasciando andare ciò che trattengo, ma sono io che chiudo e tappo i comignoli, e quindi invece da dentro a fuori, la tartaruga è anche il movimento da dentro a fuori, che poi genera il movimento. Perché se io mi muovo da dentro me stesso a fuori di me stesso, posso incamminarmi nel mondo. Non voglio fare lo sforzo, lascio che siano gli eventi a trasportarmi. Tanto gli eventi mi porteranno dove devo giungere. Quindi se neanche mi oppongo, ma lui si oppone, perché se reprime si sta opponendo ad una forza che spinge in una direzione diversa da quella che lui cerca di tenere. Se invece andassi nella direzione che mi chiama, ecco che noi due saremmo già assieme. Quindi, però qui c'è proprio la volontà consapevole di non farlo, eh. Il che vuol dire che alla domanda che sentimenti prova, potrebbe venire fuori. Guarda che lui ti direbbe benissimo, io non provo niente, ti sei inventato tutto tu, hai inventato tutto tu, io non provo assolutamente nulla. Però, andiamo a vedere. Ad oggi, poniamola così la domanda. Se lui fosse sincero con se stesso, quindi senza averti lì avanti e senza dover ammettere nulla a nessuno. Ecco, ma se fosse solo sincero con se stesso, ammetterebbe di provare dei sentimenti per te? Ok, attrazione, perché comunque il nostro re di bastoni è anche un personaggio che a livello di concretezza e fisicità può dire la sua. Volontà anche di costruire qualcosa di solido, ma una profonda confusione interiore. E vediamo di che cosa parla questa confusione. Lì dove la mente di prima è una mente offuscata e confusa. Quindi, è come se lui si desse un alibi, più di un alibi. Quello è il vissuto interiore, che tradotto in un vissuto oggettivo potrebbe diventare. Guarda che io non ho tempo di pensare a queste cose e sentimenti, perché la mia vita a livello pratico mi riempie le giornate con un sacco di situazioni che devo affrontare da solo e di cui devo prendermi cura e che devo risolvere. Quindi, io non ci penso proprio all'amore, però mantenere tutte queste situazioni ingarbugliate nella propria testa e la mente inganna se stessa per definizione e nome, mente, è solamente un tentativo di non esporsi. Perché guarda che cosa abbiamo. Ci sono i sentimenti. Allora, il re di bastoni di tutti i re è quello che più di tutti e degli altri si avvicina all'immagine del nostro imperatore. Con in mano il suo scettro. È un'altra carta che può richiamare l'elemento del fuoco, comunque. E l'imperatore è pur sempre un uomo che può porsi e proporsi come l'uomo ufficiale. Eh, però, queste sono due posizioni importanti, cioè onori ed oneri. E quindi, se ho gli onori e gli oneri, devo rispettare anche un certo tipo di etichetta e di comportamento. Se mi riconosco la funzione di imperatore, di riflesso ti riconosco nei tuoi confronti. Cioè, se io nei tuoi confronti mi riconosco imperatore, ti riconosco imperatrice. Allora, l'integrazione, che è anche una consapevolezza profonda di qualcosa che è stato compreso e metabolizzato e fatto proprio, ci porta a diventare quelle due metà che si uniscono e integrano. In un dialogo a distanza, nello spazio e nel tempo, perché la temperanza questo ci dice, che non interrompe mai la connessione sentimentale che c'è, diretta o indiretta, telepatica, spirituale, quello che vuoi. Perché qui comunque sembra che la situazione non stia andando da nessuna parte, ma anche il no contact è servito a poco. Siete costantemente connessi. E cos'è che vi connette del liquido? Il liquido richiama il concetto del sentimento. Lui riprova i sentimenti, sì, ma ti potrebbe dire di no. Ma come si suol dire, la butta in casara e si chiude. Ma per quanto lui possa negare, perché questa carta richiama tanto quella della repressione, no? Quindi questa persona che non vuole vedere, che non vuole muoversi, circondata dai problemi, bloccata in una condizione di malessere, dove tutto sembra ormai perso. Eh, ma sotto i suoi piedi non c'è un terreno arido, non c'è il nulla. C'è un terreno che conserva comunque una quantità sufficiente a far sbocciare qualcosa, di acqua, di sentimento. Quindi lui può dire, no, non ci sono, perché se io non guardo, non esiste. È tutto finito, non ci pensare proprio, non ci sto minimamente pensando. E se non ci sentiamo, ci sarà un perché. Perché? Io non mi voglio imbarcare in un'avventura del genere. Sì, vabbè, ho capito, ma dinanzi a lui c'è un mare, un lago, un ruscello, sentimenti. Un cielo che minaccia tempesta, certo, ma questa carta può parlarci di un cielo che chiude e un cielo che si apre. E quindi tutto dipende anche dal modo in cui lui va ad affrontare quel peso nel reprimere i sentimenti che prova. Quel peso mi può alla fine schiacciare totalmente o lo posso, no, buttare via dalle mie spalle e quindi via i fumi, il cielo non si chiude, il cielo riprende ad aprirsi. Ed ecco che la schiena schiacciata diventa una schiena che si curva in curva ad aprirsi e ad accogliere la novità, la ripartenza, no? Con un atteggiamento che può sembrare strano, folle, stravagante, cioè fa il contrario di quello che hai fatto un attimo prima, sì, lo potrebbe fare. Però dovrebbe tirar fuori, d'altronde, il matto dei tarocchi che fa. Innanzitutto ha la mente vuota, quindi, cioè, per cliché, la testa del matto dei tarocchi ha una testa vuota. Ma una testa vuota può non contenere cose illuminanti e interessanti, ma non contiene neanche le paranoie. Quindi rispetto alla carta della mente ha anche una testa molto serena, d'altronde, ecco, l'elemento sereno del tempo, del sole. E l'istinto, nonché una persona che non può premeditare, che vive il qui e ora, il momento per momento. E infatti nella carta del momento per momento c'era un personaggio che nel muoversi aveva un po' lo slancio di questo matto dei tarocchi con le braccia aperte per mantenere un equilibrio. E qui c'è un fiore, quindi, lasciare affiorare questo tipo di energia che in fondo dentro di lui c'è. E se solo si concedesse di venire alla luce, avendo parlato dell'immagine dell'uovo, lo zero, no, la nascita, il pulcino tirerebbe fuori questo inizio di vita. Andare con le proprie gambe, pur non avendo fatto ancora esperienza del mondo, dove il matto potrebbe essere il pioniere, quello che inizia. Quindi, tecnicamente, per me i sentimenti ci sono, ma per un fattore molto, diciamo, profondo, atavico e inconscio, che poi è inconscio fino a un certo punto, ha a che fare con il fatto che lui, per mettersi in gioco con te, deve mettersi prima in gioco e impari con se stesso. La nostra interiorità sa tutto, perché la nostra interiorità è come un attore che ha studiato tutti gli atti di una commedia, tragedia, quello che vogliamo. E ogni incarnazione termina come la fine di un atto. Quindi, anche se in questa incarnazione si dovesse raggiungere un punto e non la fine, lui già sa dove si va a parare. La storia la conosce tutta, però evidentemente può concedersi questo tipo di atteggiamento, che vuol dire un po' una sorta di menefreghismo, io mi oppongo e non lo voglio fare. Se tu sei legata e connessa a lui, indirettamente ti trovi in una condizione di sospensione. Perché? Perché ovviamente se dovete fare delle cose insieme, unificandovi, fino a quando lui non si riunisce a te, tu sei come di sospesa. Ma devi continuare ad andare avanti perché due anime destinate, due spiriti destinati, non potranno mai stare più di tanto distanti. E solo il più coraggioso che si guadagna il futuro costringe l'altro a dover abbandonare il proprio passato. E lo strappa via anche dai propri alibi e dalle proprie giustificazioni. Quindi, la sente la mancanza? Andiamo a vedere se nonostante tutto e tutto quello che si racconta, questo uomo sente la mancanza. Lui la sente la mancanza di te, la sente la tua mancanza? Lui sente la mancanza? Ebbè, ti pensa tanto. Caspita, cioè, voglio dire, ora è vero che potremmo dire, ah, che paraculo, passiamo il termine, cioè, lasciamo andare il termine, ormai l'ho detta. Paraculo perché? L'ho anche ripetuto. Perché, tecnicamente, signorino e signorina potrebbero essere una fantastica coppia, però signorino e signorina indirettamente fan pensare alla donna e all'uomo libero, libera, single, quindi che non si impegnano. Quindi siamo una coppia perfetta, purché non ci si impegni assieme. Quindi io ti penso, assolutamente sì, mi fai anche a genio, quindi mi piaci. Sei anche fatta proprio per me, cioè sei la versione al femminile di quello che io sono. All'irà del genere sessuale, anche a livello di polarità, sei la polarità complementare. E quindi certo che potremmo funzionare altro che integrazione, dove il bianco incontra il nero di quella carta, il sole e la luna, il giorno e la notte, il maschile e il femminile. Ci troveremmo perfettamente. E sento la mancanza, ma guarda, io valuto spesso, quando è troppo il tempo, l'attesa, la distanza, di fare un piccolo gesto, un piccolo movimento. Mai alla luce del sole, perché come la mente emanava da sé quei fumi di confusione personale, ma anche fumo gettato negli occhi, così non mi espongo più di tanto, la stessa cosa fa la cimiera, o meglio, non so come chiamarla, di questa locomotiva, non so come chiamarla, comunque questa parte qui. Ora, cosa prova però quando ti pensa? Recuperiamo la carta caduta. Quando ti pensa il signorino mi diventa gran signore. Dessendo questo il mazzo che io utilizzo per parlare di narcisismo, è la carta del gran signore, quella carta che se mi viene fuori entro le prime sette, mi conferma una dinamica narcisistica, va anche detto che un po' l'atteggiamento lo ha. Non voglio dire che lo sia a livello patologico, però evidentemente quando lui in un momento di forza riesce a stare distante, a resistere anche per molto tempo, in un momento di debolezza, magari il messaggino, la chiamata, anche qualcosa molto così, fine a se stesso, e freddo, e triste, lo fa, o qualche gesto lo può compiere. O se compi dei gesti tu, comunque lo fai sentire al centro della scena, e lo ricarichi tantissimo. Ora, andiamo a vedere meglio, com'è la percezione, quando penso a te siete in silenzio e distanti, com'è la percezione profonda che ha. Allora, ti immagina lì in attesa di lui, lui immagina che tu sia comunque legata profondamente alla sua persona, e che in fondo non abbia occhi se non per lui, e che tu stia facendo di tutto per avere informazioni su di lui. Quindi ti immagina lì a spiarlo, orbitargli intorno, cioè proietta su di te quello che porrebbe essere invece l'atteggiamento che ha lui verso di te. E soprattutto pensa che non possa esserci nella tua vita nessun altro uomo, perché tu sei totalmente presa da lui. Ti vede particolarmente attiva dal punto di vista delle cose pratiche, anche del lavoro, e particolarmente presente alla tua vita, quella ufficiale, della famiglia, anche in famiglia di provenienza. Ma sente la mancanza, o no perché ha la certezza che è solo una distanza, ma che il pensiero è sempre connesso? No, no, il pensiero è sempre connesso, è venuta fuori la carta del pensiero, ma anche perché dall'altra parte pure lui ti pensa sempre, anche se non si muove. Quindi una persona furbetta che sente questa connessione non si espone, non si mette in gioco, reprime, trattiene, reprime. Avrei voluto contattarti, avrei voluto vederti, avrei voluto dirti, avrei voluto scriverti, ma non l'ho fatto. Massimo che hai visto di me è qualcosa di ambiguo, quel fumo del comigno, della ciminiera, della testa, quindi messaggi poco chiari e non vincolanti per me, quindi non potremmo dire compromettenti. Ora, cosa rappresenti ad oggi nella sua vita? Sicuramente una presenza costante e una sorta di specchio che gli restituisce l'immagine migliore di sé, la carta del Gran Signore. Quando penso a te ti immagino, e immagino che tu sia lì in attesa anche a soffrire per me, quello che mi torna indietro da questa percezione è il tuo profondo coinvolgimento che mi comunque illusinga. Ma vediamo cosa rappresenti. Anche una mancanza però, per quanto la viva per come abbiamo visto un attimo fa. E la certezza che sarai comunque tu a cercarmi, a ricostruire il collegamento, il ponte, a venirmi incontro, a perdonarmi, a pagare per me e per te. Cioè, è ovvio che non è proprio un discorso fatto in questi termini. Non è che lui sta lì a pensare, ok, la nostra dinamica karmica di coppia, che prevede l'impegno di entrambi, alla fine, se io non faccio niente, è lei che fa per me e per lei. Ora, da un certo punto di vista, dobbiamo riconoscere intelligenza e percezione. Perché? Abbiamo visto che se lui non si impegna, quantomeno se non ostacolasse il fluire degli eventi, verrebbe proprio preso in braccio dagli eventi e seguendo il flusso condotto nel punto d'arrivo. Quindi è anche piuttosto fortunato e ha un karma anche benevolo nei suoi confronti, perché abbiamo visto che non esiste un vero e proprio blocco esteriore. è lui che si blocca, giudicando che non vuole mettersi in gioco, eccetera, eccetera. Perché abbiamo detto, lui ha scontato la sua pena. Nel carcere è aperto, la porta è aperta, potrebbe andare, ma rimane fermo e non va. Ma pensa che tanto tu, e sei colonna portante di una ipotetica visione futura di coppia, sarà in grado, anche se mai lui avrà bisogno e ti contatterà, di risolvere i suoi problemi. Compreso questo, cioè ripartire assieme. Nonostante io ti abbia lasciata, abbandonata, mi sia zittito, all'improvviso torno, mi faccio sentire come nulla fosse, ma è accaduto, ed ecco che tu prendi per buono quello che io ti dico, e lo usi come una sorta di denaro, che ha valore, gli dai valore, talmente tanto che quel nostro carro, che era fermo, in questo caso una macchina, un 9 di bastoni, si incammina di nuovo, perché trovi tu la soluzione, paghi per me e per te. Quindi è anche un po' un pensiero di comodo. Ora, vediamo se lui ti telefonerà, ti chiamerà lui per chiarire. Vediamo se farà proprio lui questo gesto. Sarà lui a farsi sentire per chiarire. Ora, calcola che nella carta che abbiamo appena voltato dell'otto di bastoni è plausibile, che lui si farà sentire, possa farsi sentire. Eh sì, ci può stare anche il fatto di chiarire, perché la carta che seguiva, rimetteva in movimento la macchina in panne. La macchina in panne, come immagine è. Abbiamo iniziato un viaggio insieme e la macchina si è fermata. Ciò che ci portava insieme si è fermato, arrestato. Avremmo dovuto risolvere la situazione, io non ho fatto nulla. Ho aspettato che fossi tu. Anzi, sono pure scappato e ti ho lasciato in mezzo ai guai. All'improvviso ti ricontatto e torno. Non ho la soluzione, però ti garantisco la mia presenza se risolvi tutto tu e se mi pure perdoni. Ecco, da un lato potrebbe avere questo tipo di atteggiamento, però vediamo effettivamente. Sì, perché lui da per scontato, e qui entra un po' in ballo il Gran Signore, di essere talmente centrale nella tua vita ed importante che nel momento stesso in cui deciderà di rimettersi in gioco e di esporsi, ti troverà e non avrà, diciamo, ostacolo e resistenze perché tu non vedi l'ora. Quindi per lui è solo una questione di tempo, come fosse un gioco, un ragazzino, una creatura che sta là con un atteggiamento infantile che tira la corda perché per lui averti lì appesa in attesa di un suo movimento vuoi o non vuoi lo ricarica allo losing. Si farà sentire? Però preparati anche a questo e sospiri. Cioè questa non è solo una persona che potrebbe contattarti, ti potrebbe raggiungere, la potresti incontrare e vedere, ma così come arriva è una persona che potrebbe ripartire. Quindi il farsi risentire può essere sporadico, un episodio, una volta ogni tanto, un contatto minimo e poi di nuovo sparisce. Vediamo però se prima o poi ci sarà il contatto quello proprio volto al chiarimento. Ci sarà sorpresa e un uccellino che può parlarci della comunicazione. È una comunicazione che mette a nudo e mette in gioco l'anfora al cuore con un 13 che ha una trasformazione metamorfosi profonda. Avverrà quindi questo chiarimento, cioè questa metamorfosi, il militare, che torna e conquista. Quindi è solo fisicità, attrazione, sessualità, che cos'è? È un vero chiarimento o è un atteggiamento di prevaricazione? Quindi abbiamo detto dove reprimere potrebbe essere l'usare violenza verso altri come metafora. Cioè, io che se mi faccio sentire reprimo le tue richieste, le tue pretese e le tue aspettative. Ma vediamo meglio. Però farsi sentire si farà sentire, solo che le carte non sembrano suggerirmi il sentirsi per chiarire. Ora, chiusura netta e ripartenza. Il sentimento c'è? Te lo lascio comunque pensare. Costruiamo qualcosa? Sparisco e torno. Abile con le parole mi giustifico e mi difendo. Ma tu vuoi vederci chiaro. E quindi cosa fai? Indaghi e scopri che io mi sto sentendo o mi sentirò con un'altra persona. E sarai tu a decidere di allontanarmi e chiudere. al momento viene fuori uno scenario del genere. Inaspettato ma uno scenario del genere. Ora andiamo a vedere un attimo se riuscirete a costruire ad oggi un rapporto alla luce del sole. È ovvio che la domanda è ad oggi in quanto il nostro destino non è del tutto scritto per sommi capi sì ma ci può essere la variazione sul tema. Quindi i comportamenti le situazioni che vivrete e vivrai condizioneranno le conseguenze e gli esiti ad oggi c'è la possibilità in realtà la risposta appena vista sembra dire no andate verso un gran bel litigio perché lui avrà un atteggiamento scorretto ambiguo indagherai e ti metterai di punta scoprirai quello che nel passato magari non hai scoperto lo coglierai con le mani nel sacco ci rimarrai talmente male che lo allontani tu poi non è detto che sarà un allontanamento per sempre però potresti iniziare a guardarti intorno e a rinunciare a lui perché per dignità perché non ti meriti questo tipo di trattamento però vediamo se è plausibile una storia della luce del sole eh sì è plausibile dal momento stesso in cui riuscirete a venirvi incontro quindi quel leone che si toglie dalle spalle il peso di tutti quegli alibi e quelle giustificazioni che fa sì che finalmente ci si guardi occhi negli occhi si possa costruire qualcosa di solido e stabile come conseguenza di un lavoro interiore che lui non può assolutamente fuggire del tutto ma deve affrontare tutte quelle situazioni che ha vissuto solo a livello superficiale deve guardare sotto la superficie e ripartire da dove è stato interrotto è stato dato il taglio prima di questa fase di silenzio non lo può fare fino a quando non affronta quella confusione che aveva prima nel 5 di bastoni mettendo in maniera lineare tutti gli aspetti della sua esistenza che deve affrontare e questo rientra proprio in quella famosa dinamica karmica che vi lega e che evidentemente ancora non è bruciata del tutto quella di coppia avverrà un cambiamento repentino e quel cambiamento repentino con capovolgimento di fronte rispetto alla situazione attuale sarà la famosa metamorfosi da bruca a farfalle finalmente l'uno accanto all'altro potrete di nuovo riedificare ciascuno facendo la propria parte mettendovi in una condizione auspicabile di equilibrio nella coppia quindi non è da escludere questa possibilità ma non è un qualcosa di vicino nel tempo perché sono troppi gli eventi che ancora devono darsi nel mezzo e lui oppone totalmente resistenza proprio a seguire ciò che deve invece sperimentare e vivere aspetto riscontro un bacio ciao